Buongiorno, benvenuti a questa videoanalisi Intermarket 28 aprile 2017 videoanalisi che potete ricevere gratis se cliccate su questa scritta che magicamente compare sempre sopra la mia testa videoanalisi realizzate insieme al broker STO sotto ci sono i contatti di Marco Pianezza il numero diretto, proprio il telefono che ha lui sulla scrivania risponde lui se non ha altri impegni momentanei oggi in ufficio quindi lo trovate o gli scrivete semplicemente un'email chiedete tutte le informazioni e se volete incontrarlo di persona oltre ad andare all'ufficio a Milano ma vedere me insieme Marco, che spettacolo ciao Marco saremo a Rimini, ITF Forum internazionale sì sì è internazionale, non sbaglio l'evento, quello più importante italiano 19 maggio 10.45 Teatro IT Forum l'evento è gratuito registratevi e venite anche un certo anticipo perché dai messaggi che mi state mandando prevedo un bel po' di gente e ovviamente sarà dedicato al trading talent show live ci saranno loro i traders protagonisti di questo programma che sta riscuotendo tanto tanto successo ho visto un numero altissimo di visualizzazioni nonostante i video durino anche un'ora e quindi ieri per esempio abbiamo conosciuto un trader sessantenne saluto Mauro che ieri è stato abbiamo avuto io e Ivan il piacere di conoscerlo e video intervistarlo insomma 19 maggio ITF Rimini 10.45 un venerdì prendetevi un giorno di vacanza, fate il ponte passate il weekend a Rimini con la vostra famiglia quindi dai 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 così ci conosciamo di persona allora quindi ieri ha parlato Draghi la sera prima c'era stato lui Mr. T Draghi alla fine ha detto qui la copia del sole 24 ore Draghi il quantitative easing va avanti inflazione ancora bassa e c'è questa cosa qui che anche il sole 24 ore ha analizzato abbastanza a fondo il discorso che si rafforza la ripresa nell'eurozona ma non i prezzi questa inflazione che non sale e se ricordate ieri già avevo citato che in mattinata c'era stato il meeting della Banca Centrale del Giappone a proposito di prezzi tra un po' alle 11 arrivano quelli proprio dell'Unione Europea che tra altre cose Draghi ha detto ad aprile si aspetta un'impennata dei prezzi Giappone in mattinata il governatore della Banca Centrale del Giappone per la prima volta dal 2008 aveva parlato di una moderata crescita per la prima volta ieri Draghi la novità è stata anche questa che i rischi sempre di questa espansione e crescita non sono più a ribasso ma vanno verso l'equilibrio questa è stata l'unica diciamo importante differenza rispetto ai precedenti discorsi poi gli hanno fatto più domande in merito a Macron-Le Pen lui ha detto noi parliamo di politiche e non politica gli hanno chiesto di Trump e ha detto lui che non ha le idee chiare su quello che intende fare lui Mr. T insomma quindi per il momento si va avanti così che i crediti deteriorati senza menzionare in maniera particolare l'Italia però ha detto è un problema che rendono difficile trasmettere tutto quello che sta facendo la BCE poi effettivamente ai cittadini europei perché avviene tutto il tramite degli istituti di credito che credito hanno ancora dei crediti da smaltire e quindi c'è questo peso insomma questo è il quadro delineato da lui Super Mario Draghi andiamo a vedere un po' di grafici questa è la piattaforma MT4 di STO questo è l'indicatore Decaro e Saikinashi che potete avere gratis con STO chiamate Marco che vi spiega come fare per speculare intraday ma anche multiday c'è l'opzione multiday qui ho caricato il grafico del CFD legato al FTSE MIB che segue se li mettete insieme con quello regolamentato sull'IDEM il motore di prezzo è abbastanza fedele e sotto ho messo giusto per avere un'unica videata insieme il Nasdaq l'S&P500 e il DAX quindi se c'è un segnale rialzo sul nostro indice vedo che è confermato anche degli altri indici mi sento più forte a farlo così come sulle valute dove le correlazioni sono fortissime per esempio USDCAD e OIL metteteli insieme solitamente se c'è un segnale rialzo su USDCAD dovrebbe essere in teoria al ribasso se non è così già suona l'alert e magari quell'operazione non è da fare metteteci un po' di filtro umano oltre a tutti questi che il dottor Martiradona che ha realizzato ha messo proprio sotto forma di codice quello che è tutto nella mia testa utilizzate anche voi contestualizzate sempre quello che è l'informazione che vi arriva dai grafici e tutto il resto del mondo quindi questa situazione c'è un nostro indice ma andiamo a vedere su base daily perché ci sono i 20.700 punti 20.000 andiamo magari cambiamo anche inquadratura 20.700 punti guardate guardate niente sono stati un fantastico supporto qui fantastico supporto e adesso da resistenza si stanno comportando allo stesso mondo dura dura sarà dura per il momento poi chissà se qui per esempio per buttarlo giù ci sono voluti almeno in base a questo storico potete ampliare lo storico della MetaTrader chiamate Marco Marco mi dispiace se ti do un carico di lavoro vi spiegherà come fare si può estendere tranquillamente lo storico quindi vedete già qui non è stato facile buttare giù 20.700 come pavimento adesso si presenta come soffitto in alto e anche qua c'è qualche problema vedete già si vede si vede ma necessita di conferma e poi io aggiungo una doppia conferma ovvero la candela rossa in una seduta in cui l'indice deve chiudere anche col segno meno se non è così aspetto altre conferme ecco perché la doppia conferma candela rossa segno meno candela verde segno più c'è 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 questa volontà insomma considerato l'exploit che avevamo avuto a inizio settimana con il voto francesi Gap ci sono molti Gap che sui grafici a chi nasce attenzione non li vedete ci sono molti Gap che la musica c'è chi va a cacciatori di Gap perché si pensa si dice che prima o poi vanno chiusi non si sa quando questo è il problema e quindi magari si specula su questo c'è una voglia però magari a fine serata diventerà verde anche perché oggi c'è adesso il dato americano il PIL la lettura preliminare del PIL americano è stata già confermata questa rossa sopra di me sull'indice spagnolo che tra altre cose Mauro che abbiamo interessato ieri nella video intervista del trading talent show aveva proprio è in posizione su questo strumento e quindi sarà contento visto che lui aveva avuto un primo ingresso negativo ha fatto che sta lavorando adesso per sopperire a questa operazione c'è anche un'altra rossa sulla sterlina praticamente questo trend che era partito dall'inversione su questa ex resistenza vedete come è stata fantastica rimbalzato rimbalzato perché c'è una sterlina contro dollaro che sta picchiando a rialzo anche se poco fa è uscito il dato sul PIL leggermente sotto le attese e ha portato a delle vendite ma in questo momento siamo 29,36 sterlina oramai verso 1,30 ma adesso andremo a vedere anche il grafico del GBP USD quindi per quanto riguarda l'Europa abbiamo potenziale segnale ribassista da aspettare a tendere questa sera sul nostro indice il DAX resta ancora verde così come l'Eurostox l'indice francese che stanno ormai ancora lì festeggiando alcuni mentre il rosso confermato sulla Spagna rosso confermato questo trend almeno si ferma questo trend di breve sull'indice inglese e vedremo se anche il nostro italiano visto che Spagna e Italia nell'ultimo periodo ma non solo nell'ultimo periodo tendono ad avere un trend simile la Spagna questa volta anticipato vedremo se seguiremo i nostri amici spagnoli mentre dall'altra parte dell'oceano e andiamo a Market Overview dove ho impostato il profilo dell'indice Nikkei che sono tutti Aikinashi ovviamente non lo dico ma penso sia scontato non sono grafici classici candele giapponesi e a trattare cose con l'indicatore dei cari Aikinashi avete la possibilità quello che vi fa resize vedete in base allo zoom vi allarga e stringe le candele così avete una visualizzazione migliore prosegue la risalita dati sull'inflazione anche lì in Giappone parlano di crescita come abbiamo visto ieri dal comunicato conferenza stampa di governatore Kuroda Bank of Japan però c'è il discorso anche lì prezzi non salgono non sale l'inflazione non sale quindi si va prosegue il trend resta comunque a rialzo e non si vede nessuna rossa all'orizzonte vediamo gli indici americani USA ma questo Nasdaq non lo ferma più nessuno anche perché sono usciti i dati dei colossi tecnologici positivi e quindi è un treno è un treno è un treno ho detto un treno ho detto un treno abbassate il volume che passa il treno ecco il treno il trend a rialzo che è in corso sul Nasdaq che quindi oramai va 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 così tentativo di allungo anche da parte dell'S&P 500 mentre c'è Dow Jones che è un trend a rialzo sono tutti a rialzo vedete verde 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 ai chi nasce però qui per quanto riguarda il Dow Jones questa resistenza sul massimo storico 21.000 aria 21.050 ancora anche perché è stato presentato il piano di riforma fiscale di Trump che manca però di dettagli e probabilmente sarà realizzato entro la fine dell'anno e quindi tutto quello che sarà il gioco dei negoziati trattative con repubblicani democratici è lungo è ancora lunga la corsa a questo per questa riforma quindi indici americani comunque restano a rialzo Giappone resta a rialzo l'Europa tutto sommato a rialzo ha confermato già a ribasso la Spagna l'Italia potrebbe confermare una rossa l'Inghilterra ha invertito il trend poco fa le vedevo anche su Bloomberg un'intervista ad un esperto che diceva che l'economia inglese ha decisamente sovra performato da quando c'è stato il voto Brexit e anche Draghi e l'attenzione che probabilmente gli effetti ancora non si sono visti di quelli veri della Brexit anche perché dipende dai tempi del negoziato dell'accordo quando lo troveranno cominciamo a vedere e qui mettete ah prima di cominciare anzi torno all'altra inquadratura perché vi devo far vedere un paio di articoli dal sole 24 ore se andate non so pagina 27 non so se è anche disponibile online pagina 27 del cartaceo o la versione digitale dove ha colpito la mia attenzione questo articolo che voglio condividere con voi dal titolo banche USA banche americane rally con incognite Trump e trading il trading è stato faccio un altro zoom così potete leggere leggiamo insieme il trading è stato ancora motore di profitti e entrate per la maggior parte delle grandi branche americane all'inizio dell'anno con l'eccezione però lo dice qua anche di Goldman Sachs che però non si sa se è un'eccezione o sarà la nuova regola in futuro anche perché e qui adesso si va nel tecnico sinceramente non so non sono così esperto però leggo insieme a voi e voglio giusto siccome attraverso queste video analisi tendo mi piace informare dice che il piano di riforma fiscale di Mr. T potrebbe avere delle ripercussioni negative quindi è vero che meno tasse per le aziende più utili indirettamente e altri effetti positivi che anche in questo articolo si parla potranno avere le banche però l'esito è ancora un e questo è in caso però l'effetto l'impatto negativo che potrebbe avere una riduzione delle tasse in America è ancora un'eredità della crisi e ha che vedere con i cosiddetti deferred tax asset cumuli di crediti di imposta e di altre deduzioni nei bilanci degli istituti a fronte di passate ingenti perdite nei fatti sono dei pagherò utilizzati per coprire futuri carichi di imposta tasse da pagare ma se questi si riducono a causa del drastico taglio delle aliquote aziendali al 15% ecco che anche loro devono essere svalutati un impatto che potrebbe rivelarsi accelerato prima di poter beneficiare nel più lungo periodo degli sgravi destinati a rafforzare invece gli utili per azione così volevo condividere con voi questa informazione che ho colto all'interno della pagina in fondo proprio nella sezione finanza poi nella pagina successiva si parla di shale oil ovvero gli americani per rendersi indipendenti dal petrolio dal resto del mondo dal petrolio quello normale hanno inventato l'olio di cisto tradotto proprio in italiano che inizialmente aveva che per la prima volta da quasi tre anni così come scrive la bell'uomo esperta di materie prime per il sole 24 ore per la prima volta da quasi tre anni i costi di produzione dello shale oil sono tornati a salire dal noleggio degli impianti di perforazione e tutto il resto perché vado scorro vado subito qui dove si parla che le statistiche indicano ancora costi molto bassi in media ovvero per fare avere questa estrazione dell'olio dell'olio del shale oil l'olio di cisto in media queste aziende pagano il costo è dai 40 a 45 dollari al barile il che significa fate un confronto col prezzo del petrolio quindi se va sotto 40 45 non hanno nessun motivo interesse a portare avanti la produzione ci perdono sopra sì e qui dice che addirittura in alcune aree si è scesi fino a 30 dollari come costo quindi anche se alcune che riescono a farlo a 30 dollari se quota 35 40 vuol dire che sono inutile però c'è questo cambio vedremo se sarà un cambio di tendenza importante perché siccome c'è un discorso problema si vuole equilibrare domanda e offerta chi produce estrae e vende petrolio e chi invece ne fa troppa domanda potrebbe crearsi un problema di offerta troppa domanda quindi potrebbe nel medio lungo periodo esserci una nuova corsa a rialzo delle quotazioni perché ovviamente tutto è lì tra scambio chi compra e chi vende se non è bilanciato si sbilancia da una parte o dalla prima c'era troppo petrolio ed è venuto giù si diceva anche nelle piscine c'era petrolio insomma e quindi questa è la situazione torniamo ai grafici e visto che ho parlato di materie prime andiamo a vedere il grafico quello relativo al petrolio ovviamente legato al petrolio andiamo subito a vedere quindi allora allora forex materie prime ed eccola qui guardate è una coincidenza adesso non voglio dire che per questa notizia che vi ho letto c'è candela verde potenziale bisogna aspettare per la conferma siamo sul supporto da dove già qui con questa candela verde c'era stata tutta questa bella impennata al rialzo si intravede quindi un possibile cambio del trend il gold resta invece vedete al ribasso però la ex resistenza adesso sta facendo il supporto 1.257 si è fermato un po' si è attenuato il movimento al ribasso certo è che se petrolio deve invertire al rialzo USDCAD invece da quando ha rotto ormai la resistenza 1.3575 con tutte le notizie prima della tassa sull'import legname a canadese il dazio che alla fine quello è stato imposto e l'accordo NAFTA tra Stati Uniti Canada e Messico che prima così ha tweetato ha detto basta usciamo fuori poi ha ricevuto le telefonate dal primo ministro Trudeau canadese e il collega messicano e ha detto ok lo rinegoziamo però potrebbe ancora uscire oggi poi ha anche parlato di l'accordo con la South Korea con la Corea del Sud sempre lui Mister T già con tutti presto anche l'Europa già dato degli accenni in passato potrebbe anche nuovamente ripetersi quindi tutti siamo nel mirino del lui Mister T e quindi con USDCAD che sale stona questa correlazione però saltano non sono automatiche matematiche meccaniche più che altro queste correlazioni quindi potrebbe anche starci che USDCAD continua a salire per le notizie appunto NAFTA locali relativi al proprio Canada il petrolio invece per altre sue dinamiche potrebbe ritornare al rialzo e in quest'ultimo periodo se notate bene c'è stato quando petrolio e gold scendevano euro-dollaro e dollar-franco e svizzero facevano l'opposto e viceversa quindi con un petrolio che già disegna una timida candela verde e chi nasce l'oro si è fermato sull'ex resistenza fortissima resistenza questa qui che oramai se mi seguite sapete l'ex è il livello qui guardate supporto resistenza adesso nuovamente supporto euro-dollaro e dollaro-franco-svizzero dovrebbero invertire il trend euro-dollaro-rialzo e dollaro-franco-svizzero andiamo a vedere subito insieme ed eccoli qua le candele sono ancora del colore del trend in corso verde per quanto riguarda l'euro-dollaro rossa dollaro-franco-svizzero ma anche qui si è attenuato quindi potrebbero incastrarsi vari pezzi gold e petrolio che ritornano al rialzo con il intanto è uscito sono le 11 è uscito il dato sull'inflazione flash poi magari lo vediamo anche insieme se lo ripropongono su bloomberg e quindi anche qui euro-dollaro-franco-svizzero potrebbero invertire euro-dollaro al ribasso e dollaro-franco-svizzero però adesso nulla è solo ipotetico sono scenari che potremmo avere in base a quello che è stato l'andamento correlato tra i vari asset tra i vari strumenti di mercato e qui la sterlina che sta picchiando sopra 1.28.80 il livello praticamente questa qui l'ex supporto quindi avere una nuova prova di forza a quel punto poi avrebbe spazio per salire anche fino a 1.34.15 per il momento però insomma vediamo vediamo discorso legato prima gold petrolio euro-dollaro dollaro-franco-svizzero lo vediamo anche abbiamo un'ulteriore conferma dal mercato obbligazionario americano che è un po' fotocopia del gold grafico del gold se mettete vicino quelli del t-bond decennale americano con quello del metallo prezioso quindi e qua c'è già la verde anche qui insomma si stanno stanno arrivando questo tipo di conferma che potremmo assistere più presto aspettiamo la conferma niente per un attimo è uscito breaking news mi sembra 1.9 mi sembra di aver visto con la coda dell'occhio sopra leggermente sopra ma anche draghi si aspetta l'ha già detto ieri ad aprile si aspetta un rialzo dell'inflazione che però deve essere duraturo non giusto così temporaneo è dovuto soprattutto agli elementi più volatili che sono energetici e alimentari insomma va bene eccola qui una vidiata di quella che è la situazione niente va bene recupero il petrolio NYMEX più 1% quello di cui ho appena detto grazie buon weekend a tutti appuntamento alla settimana prossima arrivederci grazie 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 grazie